Benvenuti ragazzi, oggi questo nuovo video, e comunque stiamo andando a Lego Store a Bari con i channel e channel Ma qua neanche è Cristian? Siamo con Cristian Non è più difficile, non è più difficile Non è più difficile Non è più difficile Il mio primo video è arrivato a un video 12 Ci vinto, non è più difficile Grazie Buon appetito 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 Buon appetito